Bene, iniziamo la seduta del 4 novembre 2019, prego il segretario a fare l'appello. Sera, Piermattei, Bianconi, Meschini, Fatto Bene, assente, poi Chirielli, Bianchi, poi c'è Orlandani, poi Antognozzi, Pezzanesi, Paoloni, Granata, Simoncini, Panicari, Lampa, Cruciani, Burioni, Bonpadre. Bene, gli scrutatori per la maggioranza Pezzanesi, Simoncini, e per l'opposizione Lampa. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Prego Sindaco. Buonasera a tutti i consiglieri e tutti i cittadini presenti. Inizio le mie comunicazioni parlando dei numeri dell'emergenza terremoto. Complessivamente sono state presentate 363 pratiche, di cui 254 relative alla ricostruzione leggera, 105 relative alla ricostruzione pesante e 4 riferite ad attività produttive. Sono state finanziate 193 pratiche, di cui 178 relative alla ricostruzione leggera e 15 a quella pesante, per un importo totale che supera i 31 milioni di euro. Complessivamente sono state chiuse 126 pratiche, più altre 32, di cui ho firmato la revoca dell'ordinanza di inagibilità, riferite a proprietari di immobili che hanno fatto ricorso al contributo del sisma bonus, uscendo quindi dalla procedura ordinaria. Abbiamo già pagato il CAS di settembre. Sono 741 i nuclei familiari destinati al contributo, che complessivamente ammonta a 551.586 euro. Complessivamente le domande di CAS inserite nel sistema cohesion sono state 1.332. Sono 24 le famiglie che fruiscono ancora della sistemazione alberghiera per 66 persone complessive. Ad altre 7 famiglie sono stati infine assegnati all'oggi ERAP. Per quanto riguarda i lavori per la ricostruzione dell'ITIS di Vini, stanno procedendo con molta lentezza, nonostante i quotidiani solleciti al commissario della ricostruzione e al responsabile unico del procedimento. Per cercare di sbloccare questa situazione ho anche inviato più volte un appello al Presidente della Repubblica, informando sempre e comunque il Presidente della provincia che, ricordo, è l'ente proprietario dello stabile. I lavori sono stati ora sensibilmente rallentati dal rinvenimento di alcuni reperti risalenti ad oltre 5.500 anni fa. Si tratta di selci, punte di lance, conci di anfore e attrezzi d'uso comune che sono stati recuperati e rifertati e che finiranno nel nostro museo archeologico. La campagna di scavi ha riportato alla luce anche una tomba di un bambino, con all'interno diversi supellettili. Entro oggi doveva terminare l'attività di scavo e ricerca in un'aura del cantiere, già delimitata da parte della sovraindendenza. Avevamo sollecitato l'organizzazione di un Open Day destinato alle nostre scuole per far conoscere agli studenti quanto rinvenuto nel sito. Procede lentamente anche la realizzazione del corpo ospitante la palestra. Attualmente si stanno realizzando le opere di protezione della rete ferroviaria, lavori che vengono eseguiti durante le ore notturne quando l'attività dei treni è ferma. Giovedì scorso si è conclusa la gara d'appalto per l'intervento di risistemazione degli spazi esterni del Glorioso, grazie ai proventi del SMS Solidari. I lavori saranno affidati nel corso della settimana e termineranno entro fine anno. Sono iniziati i lavori di asfaltature di alcune strade comunali a servizio delle frazioni di Isola, Paterno e Carpignano. Sono anche partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi in Viale Mazzini e via San Michele. In questo caso è previsto anche un intervento di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Sono in via di conclusioni i lavori di ristrutturazione dell'ex scuola di Stigliano. È nella fase conclusiva la procedura d'appalto per la sistemazione dei percorsi pedanali e delle aree verdi delle pendici Castello Almonte. Si è tenuto presso l'Unione Montano un incontro con la struttura della Regione Marche, ex genio civile, che ha predisposto il progetto di sistemazione del fiume Potenza nel tratto che va da Fonte di Brescia a Ponte Sant'Antonio e nel tratto da Ponte Sant'Antonio a Taccoli. Nel nostro territorio sono previsti numerosi interventi di ripulitura dell'alveo, insieme ad opere di protezione delle sponte, soprattutto nella zona a valle, dove insiste anche l'area artigianale ed industriale. Complessivamente, su tutto il tratto che interessa il nostro Comune, saranno effettuate opere per un importo complessivo che supera il milione di euro. Siamo nella fase conclusiva dell'approvazione del progetto per quanto riguarda il PIL, il programma degli interventi locali finanziato con fondi europei tramite il GAL Sibilla. In questo caso verranno realizzati dei percorsi riguardanti la mobilità lenta e due stazioni di sosta per ricarica delle bici elettriche. Il percorso si snoderà dal centro abitato fino alle pendici delle grotte Sant'Ustacchio. Complessivamente, l'intervento avrà un costo di 300.000 euro. Concludo ricordando che abbiamo affidato ai giovani il progetto relativo al prossimo Natale, i giovani di San Severino Marche, che interesserà la piazza del popolo e altre via delle città. È previsto anche un ricco calendario di eventi per tutto il periodo natalizio. Da quest'anno, come ci eravamo già ripromessi nel nostro programma, cercheremo di affidare il più possibile ai giovani settempedani l'organizzazione di tutte le manifestazioni per dare agli stessi nuove opportunità di crescita. Vi ringrazio, come sempre, per la vostra attenzione. Grazie, Sindaco. Passiamo al punto 2. Variante parziale a PRG comunale, ex articolo 26, TER, della legge regionale 34.1992 per la trasformazione di un'area pubblica inutilizzata, sida e rione settempeda, da zona FP3VG a nuova zona D0P3PP, ai fini della sua valorizzazione. A seguito dell'inserimento nel piano di alienazione del patrimonio comunale disponibile, ex articolo 58, legge 133-08, decreto legge 112-08, triennio 2019-2021, adozione definitiva. Prego l'assessore Bianchi, il redazionale. Grazie e buonasera a tutti. Il presente punto all'ordine del giorno è già stato discusso in questa Assemblea. Si ricorda brevemente, come già riferito in quell'occasione, che è stata inoltrata un'offerta formale per l'acquisizione di una porzione dell'area verde della superficie di 2.650 m2, posta in prossimità dell'intersezione tra la ex statale 361 e la ex statale 502. L'amministrazione comunale, esaminata l'istanza e valutato che l'area richiesta non è necessaria a fini istituzionali, si è resa favorevole sia alla classificazione del bene come patrimonio disponibile, sia alla conseguente variazione della destinazione urbanistica, da zona a verde pubblico a zona per parcheggi d'uso pubblico. Tutto premesso, con delibera numero 45, approvata nella precedente seduta di questo Consiglio comunale in data 18 luglio, è stata adottata la variante parziale al piano regolatore generale comunale in argomento. Successivamente all'adozione di tale delibera, si è provveduto a depositare la stessa correlativa a atti tecnici allegati per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 5 ottobre 2019. Durante tale periodo di deposito, scaduto il 20 ottobre 2019, non sono pervenute osservazioni, per cui, presso atto di tale circostanza, si rende necessario adottare in via definitiva la suddetta variante al piano regolatore generale. Per tutto quanto sopra, si propone di deliberare che la premessa è parte integrante della presente deliberazione, di adottare in via definitiva la variante parziale al piano regolatore comunale per la variazione della destinazione urbanistica dell'area, identificata all'Agenzia del Territorio di Macerata al foglio numero 136, area demaniale di 2650 metri quadri, non accatastata in corso di frazionamento, in nuova zona di con 0 P3PP, nei termini già adottati con precedente deliberazione consigliare numero 45 del 18-7-2019, di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla provincia, settore e territorio ambiente per dare corretto proseguo alle procedure di approvazione dello stesso, di dare atto che i competenti uffici comunali ed in particolare l'area ricostruzione urbanistica provvederanno alla redazione e predisposizione di quanto necessario per l'espletamento delle previste procedure, pubblicazione, atto e trasmissione alla competenza e provincia di Macerata, per consentirne una prossima deliberazione in merito, ossia approvazione definitiva. Grazie Assessore, prego apriamo la discussione. Prego Consigliere Borioni, faccio sempre da rompighiaccio. Allora questa era già stata in consiglio, ne avevamo già parlato, io non ho cambiato idea e anzi aggiungo delle cose rispetto a quello che si era detto l'altra volta. Ha già dal titolo, dice, per la trasformazione di un'area pubblica inutilizzata. Ecco, già questo insomma è inutilizzata perché vorrei capire cosa si intende quando un'area verde è inutilizzata. Un'area verde potrebbe stare come decoro e quindi è utilizzata per il decoro del paese, è utilizzata per mitigare lo smog con le piante in una rotatoria dove ce n'è molto, quindi è utilizzata per quel motivo lì. Passandoci anche stasera, prima di venire su, comunque rimane una bella aria, illuminata con dei lampioni, curata e quindi tutto sommato, ecco, un'area inutilizzata, non parebbe dire, beh, abbiamo un pezzo di terra abbandonato in uno stato pietoso, in qualche punto sperduto di San Severino, dice che ci facciamo, vendiamocela. Ecco, quindi non mi sembra il termine appropriato di inutilizzata. Come si diceva l'altra volta, cioè le perplessità erano tante, l'altra volta era arrivata questa delibera, non sapevamo, poi piano piano mi ha scoperto che serve a uso per un'attività commerciale, che deve fare i parcheggi, probabilmente un grande supermercato e quindi sono venuti fuori degli elementi in più. L'area, ecco, l'unica, tecnicamente, sì, anche l'assessore ha spiegato la delibera, però le motivazioni che ci vendiamo, che il comune si vende quest'area, l'unica motivazione mi sembra è per fare cassa, perché è arrivato un privato, per quale motivo, ma probabilmente il privato lui lo sa, perché un motivo ci sarà, offre tre volte tanto il valore di quell'area, ma la prima volta che è una cosa del genere, cioè una trattativa tre volte tanto il valore dell'area e quindi probabilmente è indispensabile, è fondamentale, probabilmente dall'attività che poi metterà in piedi dovrà recuperare anche il prezzo, il costo di quest'area, le prefissità erano dovute anche e soprattutto al fatto del discorso del ponte dell'Intagliata, lì è un ponte pericoloso a tutti gli effetti, non c'è un marciapiede, l'altro giorno passavo c'era una signora con la carrozzina, la carrozzina non può camminare sul marciapiede, camminava lungo la strada, lì le macchine arrivano veloci da Castelimondo, quindi una perplessità principale è la dovuta che un primo o poi toccherà mettere mano a quel ponte e magari avere venduto un'area che poteva servire per uno sfogo, per ampliare la rotatoria. L'altra perplessità, come dicevo, è il discorso che l'ente comunale punta sul discorso economico, ma così non funziona un ente, dice io ho trovato un affare, un business, cioè mi vendo l'area perché è conveniente venderla, ma al contrario si potrebbe ragionare non faccio dei servizi, non do delle risposte perché non mi conviene, non asfalto la strada perché ci abita solo due persone e non mi conviene, non porto l'acqua in quella frazione perché c'è solo tre case e non mi conviene, non vado a prendere quel bambino con il pulmino sperduto in un casolare sperduto perché economicamente non è conveniente, quindi l'ente quando ragiona con il discorso economico e il discorso aziendale non funziona perché oggi fa un'operazione economicamente vantaggiosa ma poi potrebbe mettere in piedi al contrario delle operazioni che non sono economicamente vantaggiose e invece sono socialmente utili queste operazioni. L'altra cosa che l'altra volta si era anche dibattuto era un'area che comunque come le aree verdi le vediamo anche nelle nuove lottizzazioni, fanno parte della lottizzazione, quindi chi investe, chi compra un immobile, chi compra una casa in quell'area e comprensivo anche del prezzo che chiaramente il proprietario deve rinunciare perché deve lasciare delle aree verdi e si rifà su il prezzo delle aree edificabili. Si era detto che una parte di questa somma fosse restituita, magari fosse data in servizi o cosa al quartiere. Il quartiere, l'esigenza principale era venuto fuori che nella lottizzazione precedente che poi è anche speculare a questa, anche per far capire come finiscono le lottizzazioni quindi che poi sono tutti uguali, quando è stato venduto nella precedente amministrazione l'area Circhi chi ha comprato doveva investendo ed edificando in quell'area fare un alloggio, un locale di tot metri a favore del quartiere, quindi a favore della popolazione, a favore di tutti, non è che andava a beneficio di qualcuno che andava a favore delle attività che il comitato di quartiere fa in un quartiere popoloso e toccato molto dal terremoto. E questo non è successo perché l'edificabilità dell'area non è partita. Allora, oltre a quello che ho detto sopra, potrei fare anche una proposta nel merito. Siccome non si sa come questi soldi vengono destinati, l'altra volta si era accennato li buttiamo nei giardini pubblici per abbellire, per sistemare i giardini, per carità va bene però se c'è già un progetto, se c'è già un importo, le 50.000 euro che in più vengono qui menzionate come una passarella pedonale ma non si sa come e quando e dove verrà fatta, si potrebbe oggi magari parlando con la proprietà dell'area Circhi, destinare una somma di questa somma qua a fare quello che si doveva fare, un alloggio per il quartiere e poi magari se non urgente quando parte quella edificazione lì nell'area Circhi fare magari la passarella, non so cosa avevate in mente, farla con quella lottizzazione lì. Quindi io adesso ho espresso le ragioni perché sono contrario, poi magari nelle dichiarazioni di voto aggiungerò qualcosa alla vendita di quest'area perché se l'obiettivo per carità è fare solamente cassa, non c'è dei progetti, non ci sono delle cose mirate cui vale la pena magari e dire vabbè ok li investiamo lì però ad oggi dalle delibere, dalle carte, da dove ci sono c'è solo una vendita a fronte di un'offerta pazzesca, il triplo del suo valore fatta da un privato. Grazie consigliere Orioni Non ci sono altre dichiarazioni? Prego consigliere Grugiani Buonasera a tutti Sono presente questa sera per confermare il mio dissenso riguardo a questa questione A parte le cose giuste che ha detto l'amico Francesco non si tratta come ha avuto modo di dichiarare a mezzo stampa di non essere d'accordo o meno sull'insediamento di una nuova attività economica un supermercato sembra, non so ma il mio parere contrario, il mio dissenso riguarda la vendita di un'area verde in un posto così strategico, nevralgico per la città, a privati Facciamo un gran parlare appunto di verde, di ecologia, di spazi verdi appunto andiamo a sacrificare un'area che riguarda un bene comune in particolare a vantaggio di tutto un quartiere come è stato detto già da Francesco per favorire un'area di parcheggio ad una proprietà privata Penso che sarebbe da pensarci bene Io questa sera mi sarei aspettato dalla maggioranza ci si va bene, abbiamo portato avanti questa cosa ma ci abbiamo ripensato e siamo riusciti a convincere magari la proprietà vicina a quella in questione per poter fare il parcheggio e quindi salviamo l'area verde questo è quello che speravo questa sera invece mi sembra che così non è andiamo avanti su questa linea c'è stato detto che l'operazione è vantaggiosa e ci mancherebbe altro che l'area fosse svenduta in un posto così importante si tratta di un'area in un crocevia all'ingresso di una città con una viabilità ancora in fieri ancora in formazione il rifacimento deve essere rifatto il ponte dell'intagliata come diceva prima Francesco probabilmente quel ponte appunto che adesso è assolutamente insufficiente dovrà essere anche orientato in maniera diversa ma non escludo come ho detto l'altra volta di poter allargare la rotatoria di fare una rotatoria come si deve quella è una zona già sacrificata da ben quattro rotatorie vicine e quindi diciamo per lo snellimento del traffico sarebbe il caso di rivedere un po' tutta la situazione poi come diceva prima Francesco si tratta di un bene comune di tutto il patrimonio di un quartiere e quindi sacrificarlo mi sembra diciamo una cosa che si poteva benissimo evitare si è parlato dell'utilizzo per la sgambatura dei cani spero di no spero che magari sarebbe molto più utile e importante una passerella che come era stato promesso da tempo per il passaggio dal quartiere alla zona dell'ospedale l'ingresso della città va visto sotto un altro punto di vista quindi come dicevo prima è penalizzato da queste quattro rotatorie che si potevano evitare è stato voluto hanno voluto fare in quella maniera ma il progetto iniziale era ben diverso si trattava appunto di fare uno svincolo con un sottopassaggio eccetera lì è tutta una rotatoria alla fine ci gira pure la testa insomma si è parlato spesso di fare un passaggio questo passaggio pedonale appunto spero che venga preso seriamente in considerazione questo è un atto le cui conseguenze ce le porteremo dietro per anni perché all'ingresso della città vedere appunto il frutto del terremoto di tre anni fa ancora dopo tre anni si poteva insomma convincere il proprietario penso nessuno può convincere la proprietà a vendere però si poteva trovare un'altra soluzione cioè di togliere sia diciamo quella la zona degradata dal terremoto e per trovare una soluzione per i parcheggi e lasciare tutto il resto come sta adesso anzi migliorandolo appunto con un progetto ad hoc chiedo appunto alla maggioranza di ripensarci e di rimediare a questo atto e di trovare un punto di incontro con la proprietà per favorire altre soluzioni più console e favorevoli per il sito in questione grazie io comunque sono contrario a questa soluzione grazie consigliere Cruciani se non ci sono sindaco prego sindaco mi sorprende tutto quello che viene detto è stato detto principalmente quando si dice è per fare cassa assolutamente no perché si investe si reinveste sui giardini pubblici e soprattutto si andava a ridare al quanto promesso con l'altra vendita del terreno alla quartiere poi si sono d'accordo e questo era già stato detto la prima volta quindi niente viene fuori all'improvviso avevamo già detto quando l'abbiamo presentata la prima volta che i soldi non venivano non rimanevano nelle casse ma servivano per la città e rimanevano anche nel quartiere tanto che abbiamo già incontrato chi di riferimento del presidente del quartiere per discutere e vedere cosa si doveva fare oltre allo sgambatoio poi per quanto riguarda sia l'entrata della città ma non viene assolutamente deturpata con la nuova costruzione è stato contattato anche l'edificio adiacente ma purtroppo per loro problematiche non hanno raggiunto accordi quindi ribadisco la città l'entrata della città non andrà a subire nessuna variazione anzi ci guadagnerà e soprattutto non sarà un parcheggio normale ma sarà un parcheggio con l'erba e quindi sembrerà sempre una parte verde ci rimarranno delle piante e quindi assolutamente non non è per fare cassa e non andiamo a fare delle cose che non abbiamo già detto la prima volta quindi noi siamo favorevoli grazie sindaco buonasera io ho aspettato un po' tutti gli interventi perché stavo ragionando se poter cambiare idea o meno perché praticamente ho fatto alcune riflessioni anche in considerazione del fatto che quando è stata discussa questa proposta il 18 luglio 2019 ci sono stati così un po' di scambio di opinioni io ho reperito attraverso l'ufficio tecnico un documento datato 4 settembre 2014 e non è altro che l'atto di vendita dell'area ex circhi e dovete sapere che tra il patrimonio disponibile nel 2011 la precedente amministrazione naturalmente per problemi interni di cassa ha messo in all'asta una delle aree più importanti del quartiere settembre un'amministrazione di centro-sinistra che vedeva all'interno della giunta l'assessore che poi era candidato con l'amico Cruciani e un consigliere di maggioranza presente come capolista nella lista Borioni sindaco in quella circostanza faccio queste precisazioni perché a me piacerebbe vedere una coerenza di giudizio nei passaggi temporali ovvero non riesco a capire il perché quando è stata venduta l'area ex Circhi nell'ambito della quale il comune ha trasformato un'area di 9.057 metri quadri attribuendo a quest'area una volumetria di 13.000 metri cubi praticamente di cui quando parlo di 13.000 metri cubi per dare un ordine di idee sulla grandezza stiamo parlando di circa 40 unità abitative e questi 13.000 metri cubi sono stati distribuiti in queste quote 6.811 in commerciale e 6.592 in residenziale naturalmente il costo per questa alienazione è stato di 1.061.000 euro se noi andiamo a fare una considerazione quell'area è stata valutata a 117 euro a metro quadro con sopra una volumetria di 13.000 metri cubi io non ricordo questi signori di sinistra al tempo si stracciassero le vesti per questa alienazione tutto è passato sotto traccia oggi viene messa all'asta un'area di 2600 metri quadri che non ha come variazione la capacità di essere edificata qui non troviamo un indice di edificazione anche perché il cambio di destinazione d'uso un'area a verde passa a parcheggio privato perdonatemi e inoltre uno può dire beh se è stato fatto un errore nel passato perché poi ripetere quest'errore nel presente io sinceramente faccio un'altra considerazione anche nell'uso degli immobili passiamo dalla teoria della congestione tipo la Luzio dove sembrava essere dei visionari spostare la scuola perché naturalmente avrebbe in qualche modo rotto alcuni equilibri creato dei problemi anche di natura economica e sociale poi quando invece noi ci troviamo un imprenditore che va a recuperare uno scatolone vuoto perché secondo me l'ex Cervigni è un volume inutilizzato nell'ambito del quale un imprenditore intende investire e realizzare un'importante attività commerciale e se questa operazione viene fatta nel rispetto delle regole e cambiando di destinazione d'uso un'area che tutto sommato oggi è giusto è destinata a verde ma anche l'ex Circo l'area ex Circhi aveva una destinazione era uno standard di quartiere e lì non ho capito Pietro no va bene io sinceramente no non riesco a capire l'uniformità di giudizio eh va bene io cioè non ho la verità in mano però voglio capire no non è questione della minoranza perché secondo no non mi metto la perché se vi ricordate bene quando io presentai la mozione la mozione sulla pista di atletica cioè che voi avevate una una visione diversa io qui non sono a prendere le difese dell'amministrazione però non riesco a capire il motivo per cui una volta l'alienazione è corretta e un'altra volta questa procedura è sbagliata e va bene cioè alla fine io sto soltanto riflettendo perché le motivazioni che avete portato perché non le avete fatte al momento dell'alienazione dell'area ex circhi per quale motivo no no il discorso urbanistico io ascolta la riflessione avviene perché l'ultima volta quando ci siamo visti non sovrapponete no va bene il discorso è molto semplice l'ultima volta abbiamo avuto una discussione tra noi io mi ricordo benissimo c'era Amerigo Eugenio mi disse l'area ex circhi l'aveva alienata Eusebi mi ricordo perfettamente io ho fatto una ricerca sì questo me lo disse Eugenio mi ricordo perfettamente eh lo so è stata eh lo so che non è stata alienata da 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 Eusebi esattamente però in questo caso cioè non si riesce a capire perché un'amministrazione la mia riflessione è molto semplice io non ho pregiudizi sulla sul discorso di cassa perché eh un ente va amministrato e vanno colte queste opportunità il mio pregiudizio sinceramente è sul discorso che condivido eh fatto dai miei colleghi di opposizione cioè non non ha senso fare un'area di sgambatura la cosa più importante sarebbe creare un collegamento tra le due cioè tra il piazzale l'area antistante l'ospedale e il quartiere settempera sarebbe questa l'opera importante da realizzare al di là di tutto ripeto io non vedo ehm di cattivo cioè non vedo assolutamente eh nessun tipo di riserva alla realizzazione di una struttura commerciale perché tutto sommato eh il quartiere è un quartiere di una certa importanza tra l'altro se si dovessero attuare quelle previsioni con quei 13 mila metri cubi ci sarebbe anche un ampliamento ehm del carico urbanistico quindi dei soggetti che vanno a risiedere in questo in questo quartiere per cui dare delle opportunità a dei privati che investono la vedo come un'iniziativa da condividere naturalmente con l'obbligo di non eh imprimere su quell'area un indice di edificabilità ma lasciarlo come un'area a parcheggio cioè senza eh necessariamente volerne eh prevedere una futura trasformazione per il momento mi fermo qui poi esprimeremo il nostro voto in base all'evoluzione della discussione bene grazie penso che la discussione l'abbiamo passiamo alla dichiarazione di voto beh no la discussione si si una volta solo poi si deve fare eh sì lei deve dire qualcosa oppure prego mi tocca passiamo alla dichiarazione di voto mi tocca utilizzare il tempo della dichiarazione di voto per rispondere al collega Panicari lui è molto più bravo quando parla di storia antica sa di più quando è storia moderna o contemporanea non è tanto afferrato io siccome parla oggi l'argomento era l'area verde questa nuova non era l'area circhi però se vogliamo andare l'area circhi io nel 2014 ero un semplice cittadino non ero nessuno e tra l'altro politicamente ero all'opposizione di Martini ho contestato la vendita di quell'area come partito formazione e siamo usciti anche sul giornale quindi io ero contrario alla vendita quella volta e lo sono anche adesso l'area circhi quindi basta andare a vedere gli articoli non ero in nessuna amministrazione non appoggiavo nessuna amministrazione non ero niente poi se vogliamo parlare di coerenza chi si è candidato con Martini nel centro-sinistra nel primo partito e poi passato al centro-destra in seguito insomma lezioni di coerenza non le prendo proprio non le prendo quindi la coerenza era che sono ero contrario alla vendita dell'area circhi e sono contrario alla vendita e ho spiegato perché dell'area verde nella rotatoria poi rispondendo un attimo anche al sindaco che ho i miei dubbi bisognava fare magari un reading che l'area che il paesaggio con un parcheggio migliori rispetto adesso io ho dei forti dubbi benché ci sia l'erbetta sotto poi non so le macchine come parcheggeranno sull'erba o qualche pianta per fare ombra però che il paesaggio non venga deturbato e anzi migliori io ho dei forti dubbi quando dico fare cassa non è che l'ente prende i soldi vende e poi si ritiene lì è chiaro che li deve anche per normativa per legge utilizzare in qualcosa e in questo caso vengono utilizzati voi dite nei giardini ma non c'è un progetto nei giardini a cosa fare mettere le piante sistemare l'immobile vedere e nei progetti poi si danno anche delle priorità non so se i giardini oggi è la priorità rispetto ad altre opere che chiede la popolazione quindi fare cassa è prendere lo spunto di un'offerta che sembra folle pazzesca perché tre volte ripeto il suo valore non è un'offerta non so nemmeno di mercato sopra il mercato però ecco viene sicuramente rinvestita ma bisognerebbe sapere in dove sicuramente ancora per il quartiere non si ha niente di definito ci sono contatti ci sono cose faremo non faremo però il tempo c'è stato da quando siamo andati in delibera l'offerta il privato leggo dalle carte l'ha fatta ad aprile siamo andati la prima volta a luglio in delibera oggi siamo a novembre quindi c'era anche per definire dei progetti per dire questa somma 300 più 50 serve per fare questo 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 ed ecco il progetto sull'attività commerciale spendo solo due parole io non sarei così sicuro che un'attività commerciale in questo momento con una popolazione in calo dalle 500 a 600 unità sono calate negli ultimi paio anni con la concorrenza che c'è in quel settore io credevo che San Severino doveva avere un'altra vocazione non sulla grande distribuzione ma l'ente doveva valorizzare gli artigiani le piccole botteghe i negozianti i prodotti tipici locali doveva valorizzare questo tipo di commercio invece di puntare sulla grande distribuzione che tra l'altro a San Severino è presente in un modo sopradimensionato rispetto alle altri paesi con identica popolazione quindi tutta questa opportunità commerciale di sviluppo di lavoro con quel tipo di struttura io non la vedo però magari mi sbaglio quindi ripeto io sono contrario adesso sta scadendo anche il tempo sono contrario alla vendita dell'aria per i motivi che ho spiegato anche nel precedente intervento grazie consigliere Vorioni e consigliere Cruciani deve intervenire qualcuno no di relazione di voto basta cioè volevo solo precisare che questa sera si trattava solo di valutare l'opportunità o meno di utilizzare un'area verde all'ingresso della città al di là delle polemiche destra sinistra che non c'entra niente e qui si tratta di valutare mi meraviglio dal punto di vista diciamo professionale un urbanista che mi dica queste cose non è questione di destra o di sinistra si tratta di valutare di dare un giudizio se è opportuno o meno valutare per te è opportuno per me non è opportuno quindi si tratta solo questo semplicemente sarebbe stata l'occasione per dare una ripulita all'ingresso della città con quello proprio che vediamo ogni giorno quando veniamo qui si tratta di convincere il proprietario o la proprietà di vendere a quest'altra proprietà appunto di fare un parcheggio lì senza sacrificare un'area verde secondo me poi proprio non è possibile perché ci stanno fare motivazioni che io non conosco però penso che una soluzione si potrebbe trovare data l'autorità del sindaco potrebbe anche intervenire in qualche maniera e al dirare questo io appunto sono contrario a sacrificare quest'area verde bene prego consigliere si si dopo fai l'intervento cioè il discorso non è una polemica tra i gruppi di opposizione la cosa più opportuna penso che su qualsiasi proposta bisogna fare delle opportune riflessioni naturalmente in diverse circostanze abbiamo avuto una sorta di visione unitaria e quindi ci siamo espressi in maniera unita siamo stati uniti nel magari affermare un voto io sinceramente non non la non la metterei sul piano destra sinistra il termine di paragone no no io l'ho fatto semplicemente perché io non mi ricordo una grande polemica quando ci fu quella vicenda Borioni dice ma io non ho detto che tu eri all'interno della maggioranza ti hai rimesso all'opposizione ma nell'ambito della maggioranza c'era un esponente autorevole e vabbè sarà stato sì però alla fine siccome anch'io siccome quando parli di coerenza Borioni io non mi offendo perché io con Martini mi sono dimesso perché non condividevo assolutamente nulla di quello che stava facendo per cui non è che sto appoggiando una scelta della maggioranza cioè io faccio opposizione anche quando sono maggioranza e faccio maggioranza anche quando sono opposizione valuto singolarmente le proposte e quando reputo per esempio sulla pista di atletica no sulla pista di atletica siamo passati da fascisti perché noi avevamo una visione totalmente diversa ma è finita lì io non ne faccio una questione di appartenenza secondo me su questa vicenda dell'alienazione va presa in considerazione il fatto che l'amministrazione ha la possibilità di incamerare una somma importante per poter poi conferire su degli interventi significativi naturalmente cioè l'unico dubbio che noi abbiamo l'abbiamo già espresso non abbiamo capito dove volete spendere questi soldi perché il discorso è semplice in linea di massima noi sulla variante cioè non è che abbiamo delle perplessità le nostre perplessità riguardano principalmente come e dove verranno spesi questi soldi cioè il discorso di lasciare così sul vago l'investimento che il comune intende fare con i soldi dell'alienazione per noi è un elemento fondamentale cioè non ci mettiamo a litigare sugli aspetti legati all'urbanistica questo secondo noi è possibile anche superarlo però non c'è chiarezza invece su quell'altra parte e queste due cose secondo noi non sono distinte sono parte integrante di un progetto che deve essere chiarito e di fatto ad oggi questa situazione non è stata chiarita cioè per quanto riguarda ripeto la variante urbanistica in sé noi non abbiamo pregiudizi il pregiudizio resta su come intendete spendere questi soldi per cui se non c'è un protocollo d'intesa se non c'è una pianificazione che poi non può essere variata a seconda delle situazioni ma deve essere chiara perché la sgambatura noi non la vogliamo vogliamo il collegamento vogliamo capire dove andate a spendere questi soldi per cui il nostro voto è di astenzione in attesa di avere chiarimenti no il mio voto è di astenzione e no volevi fare l'intervento ok c'è un minuto c'è un minuto c'è un minuto buonasera io parto dal significato dell'introduzione della delibera un'area pubblica inutilizzata questo è già un ossimoro destinato ad Ario Verde è un ossimoro proprio in senso logico di italiano quindi perché è impossibile che un'area verde pubblica non possa essere inutilizzata mi sembra una logica però se l'amministrazione ha deciso che quell'area pubblica non può essere utilizzata se non diventando un deserto allora per carità andiamo incontro ad una trasformazione ma prima di andare incontro ad una trasformazione uno dovrà sapere come va a finire come va a finire la cosa poi dice valorizzata da parcheggi privati io sono notoriamente una liberale ormai da 60 anni privato quindi non è una cosa che mi fa raccapponare la pelle però che possa un privato valorizzare una cosa che il pubblico non ha saputo valorizzare lo trovo un'offesa ho finito vero? e quindi anche il mio è un voto di astensione scusi avrei voluto dire altre cose ma non è possibile comunque ragionarci perché dobbiamo prendere improvvisamente uno ha una decisione domani mattina si vende un campo che io sinceramente a me comporta un problema morale perché è l'ingresso alla città ci starei un pochino attento c'è tutta quella distesa di asfalto che va dalla rotatoria fino alla fine fino al semaforo c'è tanto spazio uno anzi doveva essere modificato questo mi scusi presidente ma ci siamo un po' beccati stasera grazie consigliere lampa sindaco prego vorrei precisare alcune cose quando abbiamo presentato il piano delle opere pubbliche nella scheda intervento numero 11 potete si può leggere realizzazioni locali per ampliamento chiosco bar dei giardini storici di via Matteotti e riqualificazione delle aree verdi e del patrimonio vegetazionale monumentale quindi erano stati divisi nel 2019 200.000 euro e la spesa prevista nel 2020 100.000 euro l'amministrazione comunale intende realizzare un ampliamento dell'attuale chiostro bar per favorire la presenza dei giovani che particolarmente in estate frequentano i giardini pubblici di via Matteotti la contemporanea presenza il circolo tennis offre la possibilità di creare in seguito anche un vero e proprio centro di aggregazione giovanile all'interno di un intervento di recupero della palestra ex gil dove si possono realizzare spazi per attività sportive al piano terra e spazi di aggregazione giovanile al piano superiore la realizzazione del progetto di ampliamento del chiosco bar esistente richiede un investimento di circa 200.000 euro con il quale si prevede di realizzare due sale oltre ad un blocco servizi con strutture in pannelli in legno X-LAM pareti vetrate rivolte verso la pista da ballo e portali in acciaio a sostegno di una copertura leggera realizzata con tessuto teflon il progetto ha già ottenuto il parere favorevole della sovraindendenza delle marche sono previsti in oltre 100.000 euro per la riqualificazione funzionale delle aree verdi e messa in sicurezza il patrimonio vegetazionale monumentale del giardino storico quindi questo per precisare che il progetto dei giardini c'è già per quanto riguarda il progetto del quartiere proprio memory della vendita del ex circhi era stato promesso delle cose poi al momento della stipula c'erano state delle variazioni quindi avevamo tutta l'amministrazione ha pensato che era giusto ridare a questo quartiere così ampio e che attualmente così defraudato con il sisma di ridare un centro di aggregazione quindi sia con l'aiuto di quello che riuscivamo a ottenere con questa vendita quelle 50.000 euro si cercava anche di poter fare altre cose cioè il comune si era impegnato l'amministrazione per poter fare un centro più ampio per quanto riguarda il ponte e l'ospedale questo Panicari ne prendo atto la passerella anche il dottor Cruciani ne prendiamo atto e vediamo come poter fare perché è giusta visto il passaggio per il resto poi se andiamo a sindacare per inutilizzata l'espressione è un'area pubblica inutilizzata andiamo a amplificare questa parola ben venga l'italiano è talmente ampio ognuno può interpretarlo come vuole oggi è un'area pubblica è un'area pubblica che a volte se non viene messa a punto è anche in disordine quindi diventerà un parcheggio pubblico un parcheggio ribadisco è un ben curato con il cemento e l'erba ci sono vari supermercati che nei dintorni ce l'hanno poi sì San Severino è una popolazione che è una città che momentaneamente per le varie morti che mancanze che abbiamo è una città che non ha tanti abitanti però dobbiamo un attimino guardare un po' in avanti e cerchiamo di crescere quindi ribadisco noi siamo convinti di quello che abbiamo scelto per il bene della città e quindi siamo favorevoli grazie sindaco bene abbiamo finito passiamo alla votazione astenuti favorevoli contrari immediata esecutività astenuti astenuti favorevoli contrari nessuno bene tutti i punti sono stati discorsi ringrazio i vicili urbani l'arma dei carabinieri i tecnici il pubblico presente grazie a tutti buona serata grazie a tutti